Grazie onorevole per il contributo. Continuerei dando la parola a Giuliano Poletti, presidente di Lega Coop nazionale, per poi concludere questo nostro giro di riflessione su questo straordinario libro di Edmondo Berselli che pone tantissimi degli interrogativi che sono stati qua ricordati, ma che è anche uno strumento straordinario per cercare di dare delle risposte. Lo chiuderemo con il professor Melloni che era assente fisicamente, ma attentissimo telefonicamente e quindi è in grado di fare un suo intervento. Giuliano, a te. Sì, grazie. Questa è sinceramente una bella occasione per riflettere insieme, anche per esternare alcune sensazioni che almeno personalmente nella lettura di questo saggio, di questo libro ho avvertito. Una su tutte. Andando avanti nella lettura, ogni tanto mi dicevo, ma io questa cosa qui la sapevo già, ma non sapevo di saperla, cioè la vedevo emergere con una nitidezza, con una definizione che diceva, ma sì, in effetti ha ragione, però arrivare a dire ha ragione per me voleva dire, ma io lo sapevo che era così, ma com'è che non l'avevo disegnato in maniera così nitida, così chiara. E io credo che questo libro sia pieno di, dal mio punto di vista, di passaggi di questo tipo. La messa in chiaro di una serie larga di questioni rilevanti che noi nella vita, nella discussione, nella cultura abbiamo visto volta a volta emergere, ma che non si sono mai fissate. Ne cito alcune perché per me hanno avuto questo significato, io non so se anche per qualcun altro, ma ad esempio, parto dall'inizio, la crisi, la grande crisi, la ingiusta distribuzione della ricchezza, è una delle cause della crisi. E l'ingiusta distribuzione della ricchezza non è solo un problema sociale, ma è un problema che manda in crisi il mercato, manda in crisi l'economia. Noi abbiamo sempre pensato in quell'altra maniera, cioè noi abbiamo sempre pensato che l'ingiustizia, l'ingiusta distribuzione era un problema sociale, era un problema di equità, era un problema morale persino, ma però il mercato se ne fregava del fatto che la distribuzione della ricchezza fosse più o meno equa. Poi abbiamo scoperto che non è vero, perché quando la ricchezza non si distribuisse equamente, c'è qualcuno che ha in mano una quantità di ricchezza che deve investire in asset, cioè in beni, e siccome ne compra più di quelli che sarebbe ragionevolmente immaginabile per il loro uso, succede che quei beni crescono fittiziamente di valore, si formano le bolle e poi dopo c'è il crack. E' la cosa dei suprime della vicenda della casa e del mutuo americano. All'inizio andava perfettamente bene, era la casa per il cittadino americano e quando è diventata ho tanta liquidità, da qualche parte la debbo infilare, che è diventata qualche cosa in più che non c'aveva più niente a che fare con la casa, ma a quel punto il prezzo della casa non aveva più una relazione con il mercato vero, cioè la quantità di beni per la quantità di moneta. Ed è lì che siamo andati a incagliarci, certo c'è un grande problema, uno potrebbe dirmi ma allora questo contrasta con la considerazione finale, e cioè che andiamo verso un impoverimento, cioè avremo meno risorse. Io credo che questo tema vada relativizzato. Nel mondo ci sono situazioni molto diverse, ci sono pezzi di mondo che vivranno questo problema in maniera acuta, ci sono pezzi di mondo che siccome vengono da un'altra storia e non erano allo stesso livello degli Stati Uniti o dell'Europa o dell'Occidente e per loro ci sarà una conquista di migliori condizioni di vita, ma il problema nostro è che noi lì in qualche modo ci eravamo arrivati. C'è un'altra questione che io ho colto dentro questo testo e che mi ha fatto rifare un'altra volta la riflessione ma io lo sapevo. Recuperando anche alcune affermazioni contenute nell'enciclica Caritas in Veritate, c'è citato questo tema ad esempio del pluralismo delle forme di impresa, del mercato e della sua connotazione, la sua natura e la sua possibile, virgolette, civilizzazione. Lo sapevamo, ma eravamo tutti veramente consapevoli che così fosse o abbiamo accettato tutti in buona sostanza che ci fosse un'idea che a fronte di un tipo di mercato, tipo di società, ergo un tipo di impresa. Ma è un bene che sia così. Io credo che oggi siamo in grado di dire tutti insieme che il pluralismo delle forme di impresa è un bene per il mercato e per la società e che le forme di impresa non sono, tra virgolette, la dimostrazione dell'alternativa e cioè che ce n'è una buona e una cattiva. Dimostrano solo che sono diverse e che nella diversità trovano il modo per rispondere in maniera più efficace e efficiente ai bisogni dei cittadini, delle comunità e quindi promuovere lo sviluppo. E io credo che questa considerazione, la dico da cooperatore, per noi cambia in maniera assolutamente rilevante il nostro approccio a questi temi. Perché il mondo cooperativo si è vissuto, o è stato vissuto, molto spesso come un elemento sostanzialmente marginale. Cioè la croce rossa dell'economia, quando non ce la fa, quando il mercato fallisce arrivano le cooperative. La cooperazione è tra lo Stato e il mercato, siamo il terzo polo, la terza gamba. Opinione di Poletti, noi siamo terzi di niente. Noi siamo esattamente delle imprese che hanno un sistema valoriale e delle regole specifiche, una identità, non siamo per definizione né peggio né meglio, siamo fatti così e corrispondiamo in quel modo ad una libera scelta dei cittadini. Io credo che questo sia il modo corretto di usare al meglio questa idea. La cito perché ne consegue un passaggio, perché altrimenti da questa lettura potremmo uscirne con una visione tra virgolette pessimistica o negativa, perché è una chiusura che dice c'è un impoverimento, dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo gestirlo, dobbiamo gestirlo razionalmente. Ma dentro queste pagine c'è un altro soggetto che fa capolino, che è il tema delle comunità e della società. Cioè rispetto all'individuo come molla unica ed essenziale, i suoi bisogni, le sue decisioni, l'uomo economico, insomma le cose che ci siamo sempre, il massimo della razionalità. Poi scopriamo che di tutta questa razionalità in giro ce n'è una ben poca cosa e io mi permetto di costruire un piccolo antagonismo verbale tra l'affermazione famosa di Margaret Thatcher, secondo cui la società non esiste, esistono solo gli individui, è un'idea che dice che l'individuo come soggetto in assoluto non esiste. Esiste un individuo che ha un sistema di relazioni, che ha un sistema di rapporti, che vive in delle comunità, che ha una cultura, che ha un bisogno, che ha dei sogni, che ha delle aspirazioni e attraverso tutti questi sistemi relazionali partecipa di tante diverse comunità. La società è la comunità delle comunità e se noi non riusciremo a rimettere i cittadini dentro questa dinamica, alla fine sì davvero non riusciremo a trovare un'altra strada. Mondo Bersele questo ragionamento ce lo propone, ci dice ma guardate non c'è solo lo Stato e solo il mercato, c'è anche un qualche cosa di più e di diverso che ci costringe a fare un passo avanti nei nostri pensieri. E il Mondo Bersele dice un'altra cosa, che secondo me, anche qui, mi sono detto ma è vero, ma non ci avevo mai pensato, le ricette note hanno già fatto tutte fallimento. E quindi oggi noi siamo in questa confusione per questa ragione. Trent'anni fa avremmo potuto dire c'è una crisi, cavolo, se avessimo il socialismo vedresti, o avremmo potuto dire accidenti, se non avessimo tutti questi balzelli socialdemocratici e il mercato libero potesse esprimere fino in fondo le sue potenzialità, andremmo spettacolarmente bene. Il problema è che abbiamo visto come è andata a finire nel caso A, nel caso B e nel caso C. E quindi oggi sappiamo che non possiamo fuggire là, non abbiamo una ricetta alternativa, per quanto fuori da, per quanto immaginifica, per quanto irrealistica. E allora, e allora abbiamo il populismo, che è quell'altra risposta, che è la risposta della paura, della serie, siccome tutti insieme non abbiamo un'idea comune e condivisa, ognuno si difenda per sé, ognuno alzi il suo muro, ognuno costruisca la sua gabbia. E vediamo quello che sta capitando, che è esattamente il portato di questo tipo di concetto. Allora io penso che davvero ci sia bisogno di pensiero, ci sia bisogno di ragionare, lavorare, costruire cultura, perché solo le persone con il loro pensiero sono in grado di rispondere al populismo, alla paura, non c'è un soggetto terzo in grado di schermarci da questo punto di vista. C'è una grande battaglia culturale che va fatta, e io penso che il mondo berselli ci abbia dato degli strumenti importanti per poterla condurre. grazie. 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 grazie.